1.710 studenti coinvolti in 37 istituzioni scolastiche di 25 comuni della provincia di Siena, per un totale di 24 gare e 15 discipline sportive. Questi numeri dei campionati studenteschi di Siena che da quest'anno si avvarranno di una partnership importante, quella di Estrada sempre impegnata nella vicinanza al territorio e nella promozione dei valori positivi di inclusione e spirito di gruppo che lo sport veicola. Noi supportiamo i cosiddetti sport minori non solo per la scuola ma anche per la società civile in generale, crediamo molto alle giovani generazioni che si misurano nei campi sportivi, lo sport è un passaggio educativo fondamentale, il corretto sport, la corretta pratica sportiva formano i cittadini in maniera più compiuta, la lealtà, partecipare, competere, sono tutte cose molto belle ma vanno fatte nella correttezza, nel rispetto dell'avversario. Noi siamo molto grati alla società che mostra, la società estra che mostra una così particolare sensibilità a quelle che sono le attività sportive scolastiche, in generale delle attività sportive giovanili. Quindi il supporto che ci verrà garantito ci aiuterà sicuramente nello sviluppo del progetto sportivo scolastico che anno dopo anno vede coinvolti diverse migliaia di studenti della provincia di Siena.